Il sindaco di Taranto Merucci invita ai partiti ad un ulteriore confronto appuntamento al 28 dicembre per l'ennesima verifica. Grave episodio nella notte a Manduria un giovane avrebbe sparato dei colpi di pistola durante il compleanno festeggiato per le strade del centro storico in concomitanza dell'inaugurazione di un locale. A Natale il pensiero di Monsignor Ciro Miniero per i detenuti della casa circondariale di Taranto dove ha celebrato la Santa Messa. Benvenuti a questa edizione del telegiornale dedicato a Taranto e provincia che apriamo con la crisi politica a Palazzo di Città. Il Consiglio Comunale è su una polveriera e con esso anche il sindaco Merucci che ha effettuato un invito l'ennesimo ai partiti e quindi alla verifica di maggioranza evento che si terrà il prossimo 28 dicembre. Il servizio è di Leo Spalluto. Dopo Capodanno ci vorrà qualche giorno prima di conoscere la composizione della nuova giunta comunale di Taranto. Il sindaco Rinaldo Merucci infatti compie un estremo tentativo per tentare un riavvicinamento con i partiti usciti dalla maggioranza di ecosistema Taranto. A sorpresa ha convocato Democratici con Europa Verde, 5 Stelle e tutti i partiti che facevano parte del governo cittadino a un incontro fissato per le 16 di giovedì 28 dicembre. In una breve nota il sindaco ricorda di non aver avuto segnali utili dei partiti di centrosinistra dopo aver adempiuto alla richiesta di azzerare la giunta e uscire da Italia Viva. L'approvazione del bilancio con 16 voti, un numero risicato, ha evidenziato la spaccatura profonda nei partiti. Più di mezzo partito democratico, i consiglieri Bosniacu, De Martino e Papa e la lista Con hanno contravenuto alle indicazioni delle segreterie regionali, che avevano deciso di bocciare il documento e staccare la spina. È emerso così un quadro politico senza precedenti. Il primo cittadino attualmente può contare sull'appoggio delle liste civiche con i fuoriusciti di Italia Viva, sul favore della stessa Italia Viva nonostante tutto e delle PSI che hanno votato a favore del bilancio. Sui dissidenti di PD e Con, Fiusco e Lomuzio sono stati espulsi, almeno per il momento. Melucci ha scelto la via più difficile, tentare di ricucire i rapporti con la coalizione progressista e il presidente della Regione Emiliano. L'alternativa, quella di tirare dritto e formare un esecutivo basato sulla fiducia personale e sui tecnici al di fuori dei partiti, ha il fiato corto. Apriamo la pagina dedicata alla cronaca, partendo da un gravissimo episodio che si è verificato a Manduria, dove un giovane avrebbe esploso colpi d'arma da fuoco, una pistola, durante un compleanno festeggiato per l'estate del centro Vessapico. Sentiamo Marzia Baldari. Sono nel centro storico di Manduria e nella notte tra giovedì e venerdì c'è chi spegne le candeline e festeggia tra amici e fuochi d'artificio chi inaugura l'apertura di un nuovo locale. C'è divertimento, c'è musica e spenseratezza, poi la discussione tra due, la tensione che sale, l'aggressione verbale che porta inizialmente l'allontanamento di uno dei giovani che poi ritorna, estrae una revolver e spara dei colpi che raggiungono la vetrata e la serranda di uno dei locali alle mie spalle. Doveva essere una nottata all'insegna della movida, della spenseratezza tra il taglio del nastro e il brindisi di compleanno, che si è trasformata invece in una serata del terrore, almeno per qualche istante nessun ferito, fortunatamente solo tanta paura per i clienti del locale e i presenti. La discussione pare si sia accesa a causa delle scintille, dei petardi di libera vendita acquistati dal festeggiato e dalla compagnia di amici che avrebbe infastidito il gestore e spaventato i clienti, proprietario che avrebbe più volte chiesto ai ragazzi di allontanarsi. Parliamo di razzi con una fiammata alta all'incirca una decina di metri. Nel trambusto tra brindisi, applausi, abbracci e auguri pare che la confezione di botti si sia rovesciata e i razzi anziché volare avrebbero bersagliato l'esterno del locale, infuocando ufficialmente la discussione terminata con le pallottole fatte esplodere tra i lanci di fuochi d'artificio. Un pericoloso epilogo fortunato è bloccato dai poliziotti di Manduria con al comando la commissaria Marinella Martina. Le indagini potrebbero concludersi a breve grazie ai testimoni e alle immagini di videosorveglianza. Ancora cronaca, due arresti della Polizia di Stato, una a Manduria, l'altro a Taranto, quello effettuato a Taranto dai falchi della squadra mobile. In via Giusti hanno trovato un cinquantenne che era in possesso di 120 dosi di cocaina e denaro, abbiamo anche delle foto. Mentre a Manduria è stato arrestato un 34enne che è stato trovato dai poliziotti del commissariato manduriano con 200 grammi di marijuana. Inoltre c'è un'operazione da parte dei carabinieri che hanno arrestato due mariti violenti per maltrattamenti in famiglia. Alla terza a Crispiano. Un 33enne avrebbe impedito alla donna di entrare in casa, mentre a Crispiano piano un 43enne accusato di vessazioni continue nel tempo ai danni della moglie, vessazioni fisiche e verbali. Andiamo avanti perché parliamo di infrastrutture. È stata riaperta al traffico la strada statale che da Carosino porta a Francavilla Fontana, chiusa da tempo. Vediamo. Laura Milano. Riaperta al traffico la Carosino Francavilla Fontana. Nella mattinata del 23 dicembre il sindaco della città del vino Onofrio di Cillo rimuove le ultime barriere sul cantiere insieme agli addetti ai lavori e rilascia le sue prime dichiarazioni sulla riapertura della Ex 603 a lungo chiusa per necessari interventi di messa in sicurezza. Qual è stato l'iter che ha portato oggi alla riapertura? L'iter è stato un liter molto complicato. Teniamo conto che questa strada ad aprire avrebbe fatto due anni dalla sua chiusura. Non è stato semplice. Qualcuno banalizza, qualcuno erodizza, ma arriverà il momento che faremo anche chiarezza e faremo un po' quella che è la cromostoria che ha portato a questi disagi. Allora, cominciamo però ad anticipare qualcosa. I fondi? Questo è un finanziamento europeo che abbiamo avuto attraverso la regione di circa 1 milione di 800 mila euro, fu fatta una gara a maggior ribasso e ovviamente poi è iniziato l'iter che ci ha portato anche a qualche problema, ma su questo insomma come ho già detto faremo chiarezza con documenti alla mano e partendo dall'approvazione del progetto preliminare che fu approvato nel 2015. Quanto tempo sono durati i lavori? Questi lavori sono iniziati, diciamo il progetto definitivo è stato approvato nel gennaio 2020, immediatamente dopo iniziarono i lavori. Cosa rappresenta per lei l'apertura di questa strada? Beh, innanzitutto rappresenta oggi una grande soddisfazione, ma anche tanti pensieri perché insomma arrivare ad oggi non è stato semplice, vanno fatti dei ringraziamenti a tantissime persone e non ultimo alla provincia. Andiamo avanti, cresce la preoccupazione dei sindacati metameccanici dopo il rinvio al 28 dicembre del Consiglio di Amministrazione di Acciaierie d'Italia. Senza risposta entro la fine dell'anno non si escludono ulteriori proteste forti. Leo Spalluto. L'ennesimo rinvio e l'ennesimo Natale amaro è ricco di preoccupazioni per i lavoratori di Acciaierie d'Italia. L'Assemblea dei Soci di venerdì 22 non ha prodotto nulla, solo la convocazione di un nuovo CDA per il 28 dicembre, la stessa data in cui il Governo dovrebbe incontrare i sindacati che chiedono con forza il passaggio dello Stato in maggioranza al posto di Arcelor Mittal. Una situazione sempre più grave, sottolinea il segretario regionale Fium CGL, Giuseppe Romano. È chiaro che il 28 viene convocato nuovamente il Consiglio di Amministrazione con la speranza di trovare una quadra. Ci sono evidenti difficoltà nel rapporto con la multinazionale. Il Governo deve osare, deve avere il coraggio di fare l'operazione, cioè di salire in maggioranza nel capitale sociale per gestire direttamente questo stabilimento e questo gruppo industriale. Non c'è altro tempo da perdere, oramai è evidente a tutti che siamo oltre tempo massimo per tanti motivi che sappiamo. I sindacati già nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi erano pronti ad azioni di protesta forti e a non lasciare Roma una situazione che potrebbe ripetersi se non ci saranno novità nel prossimo Consiglio di Amministrazione. Bisognerà mettere in campo tutte le azioni possibili per cercare da un lato di stanare il Governo, dall'altro di cercare di salvare la siderurgia nazionale ma soprattutto di dare una prospettiva. Non è escluso nessun gesto, chiamiamo l'estremo come quello preannunciato perché davanti a questa situazione non possiamo stare fermi. A Natale il pensiero dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, è per i detenuti della Casa Circondariale di Taranto dove ha celebrato la Santa Messa. Eravamo sul posto all'interno del penitenziario con la nostra troupe. Presentiamo Laura Milano. Primo Natale a Taranto d'Arcivescovo per Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero ed una messa speciale ha voluto celebrarla presso la Casa Circondariale di Taranto, nel luogo in cui dimora chi più di chiunque altro e soprattutto a Natale ha bisogno delle sue parole e del suo conforto. Celebriamo insieme la Santa Messa, è un momento bello, un momento di preghiera, un momento di unità, è un momento dove sperimenteremo l'incontro con il Signore e l'incontro tra noi. Sono momenti di pace e di serenità ed è l'appello che il Signore certamente fa ciascuno di noi per poter vivere una vita bella. È un'occasione sempre bella quella di poter accogliere il Vescovo che viene a condividere la celebrazione del Natale in mezzo a noi, in maniera particolare dopo il mistero del Natale. La presenza di Dio e della Chiesa nel tempo e nella storia diventa la presenza del Vescovo, la presenza proprio del Signore che viene ad annunciare in questo luogo la nascita e quindi la salvezza che si realizza nella nostra vita. A Natale le parole di Monsignor Ciro Miniero per chi si porta dentro le ferite di uno sbaglio, per chi sconta la sua pena in attesa di una nuova vita, di una rinascita, perché in carcere, come dice il direttore del Carmelo Magli di Taranto, Luciano Mellone, c'è chi ha commesso degli errori e si ritrova a riflettere. Qui ci sono persone che hanno sbagliato e che comunque devono passare una parte della loro vita in carcere. Possono sfruttare anche positivamente questo periodo, per esempio per andare a scuola, completare gli studi scolastici, per imparare un mestiere, ma anche per riflettere, per riflettere su quello che è stata finora la loro vita, quella che può diventare nel futuro. Come sempre grande attenzione da parte del Tg di Taranto di Antenna Sud alla provincia. Andiamo a Martina Franca, dove il sindaco e la sua aggiunta hanno incontrato tutto il personale comunale per il consueto appuntamento con gli auguri di Natale. Ottavio Cristofalo. Tutto il personale del comune di Martina Franca si è dato appuntamento nel salotto cinese della Sala degli Uccelli per il tradizionale messaggio di auguri da parte dell'amministrazione comunale. A parlare il sindaco Gianfranco Palmisano, il quale nel ringraziare tutti per l'impegno profuso quest'anno, ha ricordato gli obiettivi strategici su cui saranno impegnati gli uffici municipali. Il piano urbanistico generale e il nuovo piano dei rifiuti sono a questi i target trasversali che vedranno protagonista l'azione amministrativa nel prossimo anno. Assieme al primo cittadino anche i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. Sarà un anno sicuramente dove ci attendono grandi sfide, PNRR, il piano urbanistico generale che finalmente arriva all'adozione, il G7 che indirettamente coinvolgerà i nostri territori e dobbiamo farci trovare pronti, i giochi del Mediterraneo che sono un'opportunità fondamentale, quindi sicuramente un anno dove ci attendono tanti sfide. Con la mia squadra che ringrazio profondamente per l'impegno quotidiano e il lavoro che loro mettono con grande passione e con la squadra della macchina amministrativa che mi permetto di ringraziare. Ogni dipendente diventa un tassello fondamentale per far sì che la macchina, è una macchina complessa, che governa e gestisce una città grande e importante come Martina Franca funzioni. A tutti rivolgo un augurio di un sereno Natale e di un felice anno nuovo. Grazie alla volontà del parroco Don Andrea Mortato c'è stata una bella iniziativa nella chiesa storica del Santissimo Crocifisso di Taranto, una raccolta di fondi durante lo scambio di auguri. Vediamo come è andata. Uno scambio di auguri all'insegna della solidarietà. La parrocchia del Santissimo Crocifisso nel cuore di Taranto ha chiamato a raccolta le famiglie per un gesto nobile, raccogliere fondi da donare all'Associazione Uniti per la Pipo. A Natale puoi, questo lo slogan dell'evento, un momento di comunità che si è trasformato in un'occasione per farsi un dono. Il parroco Don Andrea Mortato ha espresso soddisfazione per la sensibilità dimostrata dai tanti partecipanti. Abbiamo provato a raccogliere dei fonti per l'Associazione Uniti per la Pipo, un'associazione che guida e sostiene le famiglie con bimbi affetti da questa sindrome che colpisce i bambini a livello intestinale. Abbiamo raccolto una cifra considerevole, segno che questo tipo di iniziative scalde il cuore, soprattutto dà il segno più profondo di quanto il Natale di nostro Signore non è un evento storico, ma è un segno concreto della nostra quotidianità, farsi prossimo a quel Cristo che ci chiama nei più poveri, nei sofferenti, negli ultimi. Spero che questo possa diventare per noi l'augurio di Natale per la nostra città di Taranto, che la solidarietà possa diventare il segno più concreto di Cristo che si fa carne attraverso la nostra vita, attraverso la nostra storia, per farsi prossimo a tutti i nostri fratelli. Finisce così il Tg dedicato a Taranto e provincia, adesso le news da Brindisi. Si sono chiuse le indagini per l'omicidio volontario a carico dell'84enne Cosimo Calò, reo confesso del duplice omicidio del fratello e della cognata avvenuto nella campagna di Serra Nuova lo scorso febbraio. È stata eseguita l'autopsia sulla salma di Anna Maria Faggiano, la 49enne di Ceglie Messapica, morta in pronto soccorso a Fraccavilla Fontana dopo essere stata dimessa. Tre aziende del settore informatico e dei servizi tecnologici apriranno le proprie sedie a Brindisi. Ad annunciarlo è il sindaco Marchionna. Puntiamo ad avere oltre 100 posti di lavoro. Ricorderete, l'omicidio è avvenuto nel febbraio scorso a Serra Nuova, in provincia di Brindisi. Ebbene, si sono chiuse le indagini. Come dicevamo nei titoli, sentiamo i dettagli nel servizio di Michele Iurlaro. Agì da solo, senza complici. Con la chiusura delle indagini, la procura di Brindisi ha cristallizzato l'accusa nei confronti dell'84enne Cosimo Calò, reo confesso dell'omicidio del fratello settantenne Antonio e della di lui moglie Caterina Martucci, 69 anni, ammazzati a colpi di fucile all'interno della loro abitazione nelle campagne di Serra Nuova lo scorso 28 febbraio. L'anziano, che si trova ai domiciliari da agosto dopo mesi trascorsi in carcere, è l'unico indagato della mattanza arrestato dopo il sequestro dell'arma. Le consulenze dei periti hanno confermato la versione dei fatti, fornita dopo l'arresto del presunto killer che nel futuro processo dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela con il fratello. La procura, pubblico ministero Francesco Carluccio, nel ricostruire la dinamica dagli spari agli spostamenti fino ai tentativi di depistaggio alle indagini dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, ha individuato anche il movente, ovvero vecchi dissidi legati ad una eredità. Per Calocche agì da solo, senza complici, si prospetta ora il processo in corte d'assise. E ancora la cronaca. È stata eseguita l'autopsia sulla salma di Anna Maria Faggiano, la 49enne di Ceglie Messapica, morta in pronto soccorso dopo essere stata dimessa. Ancora Iurlaro. È stata eseguita nel pomeriggio di venerdì, presso l'obitorio dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, l'autopsia sulla salma di Anna Maria Faggiano, la 49enne di Ceglie Messapica, deceduta in pronto soccorso, dove dopo essere stata dimessa, attendeva l'arrivo dei familiari per rientrare a casa. Una tragedia sulla carta inspiegabile. Per questo, dopo la denuncia presentata ai carabinieri dall'avvocato Cosimo De Leonardis, la Procura di Brindisi, Pubblico Ministero Mauro Ungallone, aveva disposto gli accertamenti del caso, affidando l'incarico al medico legale Liliana Innamorato. In attesa degli esiti della perizia, la salma della sfortunata donna, che in ospedale era arrivata con forti dolori all'addome, è stata restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Voltiamo pagina adesso, parliamo di lavoro, di occupazione. Tre aziende del settore informatico e dei servizi tecnologici apriranno le proprie sede a Brindisi. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco della città messapica, Giuseppe Marchionna, ha detto puntiamo ad avere oltre 100 posti di lavoro. Il servizio di Fabrizio Caglianiello. Sono aziende di Roma, di Milano e di Verona che vengono qui a portare investimenti, soprattutto sul piano dell'informatica e dei servizi innovativi. Quindi parliamo non di aziende industriali ma di aziende del terziario avanzato. Almeno 50 nuovi posti di lavoro, forse addirittura 100. In arrivo a Brindisi importanti investimenti con l'impegno di tre aziende internazionali che operano nel settore informatico e dei servizi innovativi. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Marchionna che annuncia questi investimenti che serviranno anche a riqualificare alcuni edifici dismessi della città. E scelgono Brindisi, oltre che per una serie di altre questioni molto importanti, soprattutto perché è scritto esplicitamente nella lettera, perché l'aeroporto di Brindisi è perfettamente collegato con Roma e Milano e una serie di altre realtà nelle quali queste aziende operano. Sappiamo dove saranno collocate? Beh, c'è qualche ipotesi. Io per esempio ho anticipato che c'è una buona parte di patrimonio indisponibile da parte dell'amministrazione comunale, cioè di un patrimonio che non utilizziamo più, pensiamo alle scuole ormai abbandonate, eccetera, che potrebbero essere adeguatamente ristrutturate attraverso un impegno ovviamente dei privati, che da questo punto di vista poi potrebbero essere inseriti in un accordo quadro nel quale gli investimenti per il riattamento di questi edifici potrebbero essere scontati in X anni di affitto da devolvere al Comune. E adesso un allarme, anche piuttosto importante, che giunge da Brindisi. I giovani donano sempre meno sangue. Quanto emerge dai dati diffusi dalla ASL Brindisina, intanto i consiglieri comunali provano a dare il buon esempio, e cioè tutti a donare ancora Caglianiello. C'è bisogno di sangue, sempre e comunque. La provincia di Brindisi sul piano delle donazioni negli ultimi anni ha fatto notevoli passi avanti, ma c'è un dato che preoccupa più di tutti, i giovani non donano, o comunque lo fanno pochissimo. La situazione è che pian piano i donatori aumentano sempre più con gli anni, vediamo sempre meno giovani qui presenti. Io mi auguro che questo messaggio venga soprattutto letto e ascoltato, e che possiamo andare a colpire soprattutto la sensibilità dei giovani. Tante le iniziative per promuovere la donazione di sangue. Nei giorni scorsi gran parte del Consiglio Comunale di Brindisi ha voluto dare l'esempio. Sicuramente è importante sensibilizzare, c'è stata anche una buona risposta da parte dei consiglieri, quindi qualche sacca di sangue che sarà sicuramente utile all'ospedale giungerà, nella speranza poi che questa iniziativa sia come dire una sorta di megafono e che venga ripresa, intanto dei consigli comunali, anche dei comuni della provincia, ma poi come stimolo stesso alla cittadinanza. Un ringraziamento ai consiglieri del Comune di Brindisi, di maggioranza e di opposizione, tutti uniti per questa bellissima causa, perché serve sangue, il sangue vita, il sangue aiuta a vivere. E per restare in tema di solidarietà ci spostiamo adesso a Fasano, dove è stata messa in campo una singolare e lodevole iniziativa che in qualche modo coinvolge anche lo Zoo Safari. Sentiamo Alessandro Zanzico. Le maglie celebrative dedicate al cinquantesimo anniversario dello Zoo Safari, con cui il Fasano ha giocato il derby con il Barletta lo scorso 17 dicembre, sono state vendute all'asta. Un'iniziativa sfondo sociale che ha visto la società bianca azzurra devolvere in beneficenza l'intero ricavato destinato all'Unione Italiana, ciechi e ipovedenti EZ, ente morale a cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Un'iniziativa che, a detta del presidente del cittadifasano, Franco D'Amico, ha superato le aspettative del club della città della Selva. Sì, è stata un'iniziativa voluta dalla società, da tutti noi, per omaggiare soprattutto i cinquant'anni dello Zoo Safari nell'occasione per promuovere questa maglia celebrativa venduta all'asta per tutto il ricavato e andato in beneficenza a un'associazione di non vedenti. E' stato per noi un motivo di orgoglio, di grande soddisfazione aver comunque ottenuto e riscontrato un grande successo di questo evento. Non si pensava di ottenere questo gran bel risultato. A livello di numeri siamo andati ben oltre le nostre previsioni iniziali. Una recita in odore di Natale per i bimbi della Secondo Comprensivo che dall'anfiteatro della Villa Comunale hanno lanciato canti e balli di speranza. Tutto ciò accade a Fraccavilla Fontana. Michele Giurlaro. I brani di Natale più belli e famosi interpretati in canto e balli dai bambini del Secondo Comprensivo nell'anfiteatro della Villa Comunale diventano in una fredda e umida sera di dicembre un momento di inclusione e condivisione. Famiglia, docenti, personale, solo sorrisi per quei piccoli e piccole Babbo Natale che mittente 72 e 021 lanciano un messaggio di speranza. Questa giornata è stata organizzata da tempo dalle docenti delle scuole dell'infanzia della nostra scuola del Secondo Comprensivo ed è una giornata che vogliamo dedicare a tutte le famiglie. Come dicevo, l'idea di aver scelto la sera corrisponde anche al momento della giornata in cui la famiglia si ricompone e quindi i bambini possono avere l'abbraccio di chi li ha in cura la mattina tutta la giornata, per il grande tempo della giornata e poi li riconsegna ai genitori. È un momento in cui dobbiamo essere tutti solidali tutti vicini è un momento di collaborazione, di grande condivisione. Io ringrazio le docenti e auguro a tutte le famiglie e a tutti i nostri bambini un felice Natale e un sereno anno nuovo. E a proposito di belle iniziative e soprattutto singolari i brindisi e i monumenti in miniatura di Cosimo Di Giulio un artigiano che ha allestito una speciale mostra in legno sentiamo Davide Cucinelli. Un tour tra i monumenti di Brindisi in una singola stanza è questa l'iniziativa promossa dall'associazione We Are Brindisi con la mostra dell'artista artigiano e falegname Cosimo Di Giulio che ha riprodotto proprio con il legno tutti i monumenti di Brindisi del presente e del passato a partire dalla torre dell'orologio il vecchio Teatro Verti ma anche il monumento al marinaio la fontana Tancredi piazza Cairoli il duomo di Brindisi un momento per mettere al centro l'arte e la qualità del lavoro svolto dallo stesso Di Giulio è un momento anche però per ricordare la storia presente e passata della città di Brindisi Sono nati così giusto per occasionalmente sono nati perché non è che si sapeva l'idea ero bambino e a me mi piaceva quando l'hanno costruito il monumento al marinaio d'Italia che ho detto beh una volta dico ci devo quando sarà che me ne vado in pensione lo voglio costruire per mia soddisfazione poi c'è stata la gente vicino al laboratorio che mi dice ma che bello che bello ma perché non fai un altro da un altro da un altro da un altro è nato questo qua venite 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 e venite a vedere anche a passare un quarto d'ora di un po' di rilassano perché forse nei Brindisini ci vuole e che si aspettano ancora tanto sperando questa la nuova la nuova giunta col sindaco si può sperare a fare qualcosa ancora di più bello e con queste belle immagini chiudiamo il telegiornale dedicato a Brindisi e Provincia ci spostiamo nel Salento con le news da Lecce la sede del consorzio di bonifica Ugento-Lifoggi situata a poca distanza dalla provinciale 72 tra Ugento e Casarano sarà acquisita dalla regione Puglia per essere messa a disposizione dell'Asilecce potenziando così il servizio di assistenza territoriale e sociosanitaria a Gallipoli manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato interventi per un importo pari a 500 mila euro incidente nella notte sulle strade salentine sulla provinciale 119 Lecce-Arnesano il bilancio è di 4 feriti di cui uno grave tutti d'età compresa tra i 27 e 29 anni apriamo il Tg di Lecce con una importante novità sull'assistenza territoriale sociosanitaria infatti la sede del consorzio di bonifica Ugento-Lifoggi sarà acquisita dalla regione Puglia per essere messa a disposizione della ASL leccese potenziando così il servizio di assistenza territoriale sentiamo Francesco Schiavano la sede del consorzio di bonifica Ugento-Lifoggi situata a poca distanza dalla strada provinciale 72 tra Ugento e Casarano sarà acquisita dalla regione Puglia per essere messa a disposizione dell'ASL potenziando il servizio di assistenza territoriale sociosanitaria l'immobile infatti a partire dal 1 gennaio 2024 non sarà più a disposizione dell'ente di bonifica che sarà sostituito dal nuovo consorzio unico centro-sud Puglia la sede inoltre inserita nel piano di alienazione ha subito catturato l'attenzione dell'assessore regionale alla sanità Rocco Palese che insieme alla presidente del consiglio regionale Loredana Capone ha deciso di presentare una proposta al consiglio che impegna la regione Puglia ad acquistare l'immobile Il lavoro era partito un po' di mesi fa quando avendo appreso che nel piano di alienazione dei consorsi di bonifica redatto dal commissario era prevista la vendita sostanzialmente svendita di quella sede io ne ho parlato in maniera molto approfondita col presidente Emiliano davanti all'enorme partita debitoria di 131 milioni di euro dei consorsi che bisognava cercare in tutti i modi in tutte le maniere di realizzare c'è qualche c'è qualche anche c'espito per poter rientrare da parte dei consorsi con l'interesse da parte della regione e nel frattempo la regione la acquisisce ai fini di poter potenziare l'assistenza territoriale di questa zona di questo territorio del sud Salento Abbiamo preso una decisione importante in consiglio regionale su proposta mia dell'assessore palese abbiamo deciso di destinare l'immobile del consorzio di bonifica Ugento di Foggi che si trova a servizi sanitari ma sarà importante perché il consorzio di bonifica ridurrà i costi infatti non li poteva più sostenere avendo solo 10 dipendenti nell'ambito di un immobile così grande e al contempo la regione potrà assicurare attraverso la ASL servizi migliori ai cittadini di maggiore prossimità io penso che possiamo essere orgogliosi di questa decisione che va incontro anche alla richiesta del Consiglio Comunale di Ugento e che serve a rispondere alla necessità di dare servizi di maggiore prossimità a Lecce si parla di riqualificazione energetica degli edifici condominali ma anche di nuove misure in merito al super bonus sentiamo Pierandrea Fanigliulo un tema quello del super bonus ma anche delle altre misure in tema di efficientamento energetico adottate dall'ex governo nel recente passato che tiene banco ormai da mesi e che richiede risposte urgenti per cercare di arginare il collasso di una misura adottata a volte in maniera troppo leggera innanzitutto dobbiamo risolvere i problemi costruiti determinati nel passato quindi il governo Meloni sta provando anche a mettere un freno a quello che era un uso indiscriminato del super bonus del 110 che in realtà non è che abbia portato grande beneficio al rifacimento e soprattutto al recupero energetico di alcuni immobili quindi il sistema va corretto è quello che stiamo facendo i problemi dei condomini attualmente sono sicuramente legati alle pratiche del super bonus una legge che purtroppo è nata male ed è finita peggio perché abbiamo visto riqualificati degli immobili che magari potevano aspettare dare la precedenza a degli immobili magari popolari o comunque in categorie catastali non di russo quali sono le risposte che ci si aspetta dalla politica? sicuramente coerenza certezze non dubbi e incertezze che le hanno fatte da padrone fino ad oggi cioè sinceramente siamo arrivati al 31 di dicembre ancora non si sa per quanto concerne il super bonus se ci saranno proroghe ma ormai la legge in manovra fino al 2024 è blindata il governo sembra che abbia posto la fiducia e quindi passerà il pacchetto approvato a suo tempo in consiglio dei ministri non si placa la polemica ovvero il botta e risposta tra il sindaco di Carmiano Eroi e l'ex sindaco Mazzotta accuse al vetriolo e due storie apparentemente diverse come ci spiega Maria Teresa Carrozzo non si spengono i riflettori su Carmiano e continua il botta e risposta tra l'ex sindaco Mazzotta e l'attuale sindaco Eroi tra i due parole al vetriolo in meito a presunti appoggi elettorali in seno alle amministrazioni comunali parole sempre più al vetriolo tra lei e il sindaco di Carmiano Gianni Eroi Eroi manifesta evidentemente segnali di nervosismo per cui sfocia la sua tensione nell'offesa personale nei miei confronti e quindi inizia per lui il valser delle bugie sentendo parlare lei e il sindaco Eroi sembrano due storie del paese totalmente diverse ma qual è la sua verità? La verità mia è documentale dimostrata dagli atti il rappresentante della sua lista poi tratto in arresto in occasione dell'operazione della DDA di maggio del 2013 Eroi dimentica che è stato candidato nella sua lista con lui sindaco candidato sindaco nel 2005 in ordine alla ditta il cui rappresentante è stato tratto in arresto nell'ultima operazione quella del 6 novembre sempre della DDA di Lecce forse evidentemente la memoria di Eroi latita perché quella commessa da 96 mila euro circa non è stata affidata da Giancarlo Mazzotta lui ricorda male c'è un'interrogazione del consigliere comunale di allora di opposizione Daniele Ianne che chiede lumi su questa vicenda ed esce fuori chi è che aveva curato la pratica l'assessore ai lavori pubblici di allora l'onorevole Achille Villani Miglietta guarda caso oggi abbiamo lo stesso assessore dei lavori pubblici della giunta Eroi e abbiamo la stessa identica ditta evidentemente sarà una coincidenza per ciò che riguarda invece la casa confiscata dalla NBSC Eroi dimentica che lui ha preso sì parte alla delibera di giunta il comune di Carmiano manifestava semplicemente un interesse di massima ma a seguito del decreto della NBSC che Eroi pur essendo presente abbandonò la giunta per non votare E adesso la cronaca un violento schianto si è verificato la scorsa notte sulla strada provinciale 119 che collega Lecce ad Arnesano sono quattro i feriti di cui uno grave Un altro incidente sulle strade salentine intorno alle ore 2 nella notte tra venerdì e sabato un sinistro ha coinvolto un Opel Corsa e un Audi sulla strada provinciale 119 Lecce-Arnesano l'episodio avvenuto in via Donatello ad Arnesano nei pressi della cantina Due Palme registra un bilancio di quattro feriti tutti di età compresa tra i 27 e i 29 anni uno di questi che si è rivelato essere il più grave era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dell'Audi presa a noleggio su cui viaggiava a causa del violento impatto per liberare ed estrarre il ragazzo dalle lamiere è stato necessario l'intervento del comando vigili del fuoco di Lecce giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 questi ultimi dopo aver prestato i primi soccorsi anche alle altre tre persone coinvolte nell'incidente che viaggiavano tutte a bordo ragazzo più grave con codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce ricostruire la dinamica del sinistro ora sarà compito delle autorità competenti adesso parliamo di carenza di personale sanitario di medici in particolare in Puglia non si riescono ad aprire gli ospedali che sono stati costruiti che stanno per essere ultimati proprio per questa carenza di medici gli anestesisti in particolare non ce ne sono praticamente più si ricorre all'estero si ricorre ai medici pensionati eppure continua ad esistere lo abbiamo ribadito spesso lo vogliamo fare nuovamente al numero chiuso per l'accesso all'università alla facoltà di medicina e questo scoraggia le famiglie scoraggia i ragazzi che vogliono intraprendere questa attività ebbene questo fatto viene preso in esame dal senatore Marti il quale chiede l'annullamento del numero chiuso per la facoltà di medicina e la proposta che è stata portata in commissione cultura al senato proprio da Roberto Marti sentiamo Maria Teresa Carrozzo ha preso il via in commissione cultura al senato grazie al presidente Roberto Marti l'iter per porre fine al numero chiuso nelle facoltà di medicina nelle scorse ore infatti è stato avviato l'esame di due DDL tra cui uno proprio a firma di Marti in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia con questo provvedimento si prevede il rafforzamento del servizio sanitario nazionale in capitale umano debitamente formato e dunque il superamento della carenza dei medici un'importantissima novità inizierà così l'avvio diciamo della discussione in commissione sarà incardinato della legge a mia prima firma e di tanti altri colleghi che porterà questa questa notissima vicenda di cui ne parlano tutti i partiti del centrodestra da anni e che abbiamo promesso agli italiani e potrà divenire diciamo una realtà in pochi mesi è prevista anche una delega al governo per la revisione e il riordino del sistema di svolgimento delle stesse attività formative universitarie in particolare si lavora la possibilità di svolgere le lezioni anche da remoto garantendo comunque una turnazione tra gli studenti e un'attività di tutoraggio da parte di medici esperti inoltre nelle maglie delle valutazioni c'è anche l'itere per individuare ulteriori strutture ospedaliere universitarie non pubbliche e private convenzionate dove gli studenti possano svolgere le attività formative e professionalizzanti incrementare insomma i nuovi ingressi per gli aspiranti camici bianchi è fondamentale a oggi diciamo non ce la sentivamo di non farlo iniziare prima della fine dell'anno quindi avrà finalmente avvio dal senato quindi un incentivo per poter avere più professionalità perché significherà avere più professionalità ma anche più medici noi abbiamo capito quanto necessario fosse avere più medici nella nostra nazione quando in quell'emergenza sanitaria abbiamo sofferto e patito in quel modo e quindi non potevamo più attendere e adesso vediamo una bella notizia e per farlo ci spostiamo a Gallipoli dove per la manutenzione straordinaria delle strade sono stati stanziati 500 mila euro di manutenzione straordinaria delle strade interne del centro urbano mediante la scarifica del manto di usura esistente logorato e riposizionamento di nuovo asfalto e questa la volontà della giunta comunale di Gallipoli che giovedì scorso ha deliberato l'approvazione del progetto esecutivo riguardante gli interventi di manutenzione di alcune strade cittadine i lavori per un importo complessivo di 500 mila euro sono interamente finanziati in seguito ad uno stanziamento previsto in bilancio e interesseranno circa 18 arterie del sistema aviario Gallipolino situate nel centro abitato e nei pressi dei Lidi per un totale di 5 zone di intervento abbiamo voluto investire con fondi di bilancio per altre strade nelle zone del centro urbano di Gallipoli dopo aver fatto già in questi anni oltre 40 strade con sottofondo e nuovo asfalto abbiamo voluto investire ulteriormente 500 mila euro per fare queste ulteriori strade sono strade fondamentali strade che sono soprattutto nei pressi degli edifici scolastici per garantire la sicurezza in primis ai bambini e a chi li accompagna e li prende da scuola ci teniamo molto sia alla sicurezza appunto del cittadino ma anche per rendere migliore Gallipoli quindi dopo le strade dopo un milione di euro solamente dell'ultimo bilancio per il basolato oltre a tutti quelli spesi negli anni precedenti Gallipoli continua a rinnovarsi e continua a rinnovarsi anche attraverso il rifacimento di quelle che sono le strade che percorriamo ogni giorno Ai cantieri teatrali Coreia di Lecce una serata dedicata alla libertà di essere o non essere con i teatri di vita che hanno portato in scena Eva vediamo I cantieri teatrali Coreia di Lecce ospitano teatri di vita con lo spettacolo Eva tratto proprio dal monologo di Clifford e tradotto da Stefano Casi in cui Andrea Adriatico reggista teratrale e cinematografico ritorna a indagare sui temi di genere con una compagnia di tante Eva che moltiplicano l'originario monologo in un coro di identità e fluidità chiudiamo 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 questa prima parte di stagione con uno spettacolo importante dove continuiamo ad affrontare le tematiche assolutamente contemporanee che riguardano tutti non riguardano solo i giovani quindi per noi è un momento importante delicato in cui ci sentiamo la responsabilità di contribuire in questa discussione e il teatro non può essere altro che questo essere sempre contemporaneo Teatri di Vita è la compagnia che presenta stasera Ev che è uno spettacolo sull'identità di genere e sul patriarcato diciamo così sul rispetto soprattutto delle differenze ed è un è un invito a entrare in un universo appunto di differenze di differenze di identità di orientamento sessuale sempre condannando in qualche modo quel maschilismo tossico che inquina i rapporti e inquina anche il riconoscimento di sé Una notizia appena giunta in redazione chiede del denaro e al rifiuto incendia l'auto di un anziano successo a Lecce dove la polizia ha arrestato un uomo di 33 anni con precedenti alle spalle come dicevamo avrebbe chiesto denaro a un anziano di 86 anni al rifiuto che gli è stato opposto ha dato fuoco a quest'auto d'epoca sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno visionato anche i filmati delle telecamere di videoserveglianza e hanno individuato il 33N che è stato arrestato è tutto per il telegiornale di Lecce e provincia ringraziamo per la preziosa collaborazione tecnica Sebastiano Buffalo e Gianfranco Milillo buon proseguimento con i programmi di Antenna Sud e buon weekend arrivederci e buon Natale rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti